Esatto, qui il problema è molto semplice, premesso le giustissime osservazioni di rapporto con l'Europa perché addirittura già due mesi fa la Germania aveva dato come ricetta economica per l'Italia l'introduzione di una patrimoniale e l'aumento dell'IVA, quindi andare adesso, nel momento in cui stanno decidendo quale tipo di supporto finanziario l'Europa deve dare ai vari paesi, compresa l'Italia, dire guarda che questi soldi io li utilizzo solo per, quindi è giusto entrare nell'ordine di fare una riforma fiscale ma a 360 gradi dove è prevista anche l'IVA, poi attenzione, cosa significa abbassare l'IVA? Di un punto o due punti significa assolutamente nulla. Cioè è impercettibile? È impercettibile, la Lega va oltre e dice nel caso di una riforma a 360 gradi anche una sostanziosa diminuzione e poi non temporale per due o tre mesi perché vuol dire fare il solletico all'elefante praticamente. Ma in questo momento il problema, scusatemi, ma credo che sia normale, logico, lo capiscono tutti, è un problema di reddito, cioè noi dobbiamo dare il reddito agli italiani che in questo momento si è notevolmente abbassato. Quindi se gli italiani in tasca non hanno i soldi, tu l'IVA la puoi mettere anche al 0%, ma poi la gente purtroppo non compra. Questo insomma non rianima i consumi interni. Non è che abbassando di uno o due punti la liquide dell'IVA, ovvero settorialmente alcuni beni merceologici riprendono i consumi. Magari bisogna dare prima la capacità reddituale agli italiani per quelli che hanno perso il lavoro o che hanno diminuito sensibilmente la propria entrata e poi si può parlare di vantaggio dell'abbassamento dell'IVA. Allora, chiarissimo, voglio andare subito dal senatore...